Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, in Italia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Oggi Sportello Reclami vi porta in Valdarno, salutiamo tutti gli amici del Valdarno che probabilmente conoscono questo problema del quale andremo subito a parlare. C'è per noi Alessandro Palandri direttamente da San Giovanni Valdarno. A te Alessandro. Buonasera, ben ritrovati su Sportello Reclami. Oggi siamo a San Giovanni Valdarno, estremolembo della provincia di Arezzo da un certo punto di vista. Però, come vedrete, non esente da problemi. Siamo nella zona di Via Ponte alle Forche, alle spalle di essa, dietro di noi c'è la ferrovia. E siamo qui perché siamo stati sollecitati su un problema di un passaggio pedonale su cui grava una servitù di passaggio che da diverso tempo è chiusa. In quest'area ci sono anche delle scuole elementari e ci sono degli asili, c'è molta gente che vive in quest'area. E insomma, da un paio d'anni, sbaglio, si protrae questa situazione? Si protrae da un paio d'anni, da quando ho cominciato a seguire un pochino io. Perché, naturalmente, mi sono rivolto ai vigili, mi sono rivolto all'assessore dell'ufficio tecnico, mi sono rivolto al sindaco, mi sono rivolto al difensore civico. Naturalmente, il difensore civico ha scritto delle lettere e non ha avuto nessuna risposta. Mi sono rivolto al radio Cianne, Luca Cini, che venne qua, fece un'intervista. Dovevano dare una risposta, non l'hanno mai data. E, logicamente, questo passo rimane chiuso. Dopo degli anni, qui c'è una furbata dietro, bene parlarsi chiaro. La furbata è questa. Se dopo quei tanti anni un passaggio rimane chiuso, si ricongiunge alla proprietà. Allora, bisogna, specifichiamo, questo passaggio non è che c'è da poco tempo? No, dagli inizi del Novecento. Dagli inizi del Novecento, perché qui alle spalle, quando ancora c'erano le miniere, quando ancora c'era un'industrializzazione a San Giovanni Valdarno, conosciamo benissimo tutte le vicende, per esempio quelle della Beltrame, e tutti i problemi connessi. E qua dietro si andava agli orti? Si andava sulla strada di Capriglia, che poi c'era un ponte dell'altro ponte di Capriglia, che si andava a tutti gli orti, perché una volta la gente facevano gli orticedi per arrotondare. Le domande ai diretti interessati sono state fatte in più istanze. Dico male se dico che qualcuno aveva anche detto un termine entro il quale questa servitù sarebbe stata ripristinata? Lo dice il Codice Civile, basta leggerselo. Lo dice il Codice Civile. Naturalmente qui c'è qualcuno che fa finta di non capire, e quando si arriverà a capire la proprietà avrà riassorbito l'usofrutto. Logicamente a quel punto sarei costretto a rivolgermi alla Corte dei Conti e denunciare tutta la Procura della Repubblica, per sapere cosa hanno dato o cosa hanno ricevuto per essere distratti. Ancora una volta, è capitato più volte in queste serie di sportello reclami, noi ci troviamo di fronte alla mancanza non solo di una risposta al cittadino, ma a una latitanza di presa di coscienza di quelli che sono i problemi da parte di chi li dovrebbe risolvere. E capite bene, come già più volte abbiamo detto in altre situazioni, il cittadino francamente si sente abbandonato a se stesso. Insomma, questo è il servizio. Le parole del signor Cellai che è stato con noi oggi sono state chiarissime. Ci sono degli atti, basta andarli a vedere. Io lascio questo servizio. Come al solito, questo servizio va inviato in prima battuta a chi in prima persona ha il dovere di prendersi carico di questa situazione. Vogliamo sperare, come diciamo sempre, che anche in questo caso chi deve intervenire, chi è preposto a intervenire, lo faccia per in realtà restituire ai cittadini qualcosa che da molto tempo, si parla di una servitù, in realtà è loro. Con questo è tutto. Grazie di averci seguito. Alla prossima puntata di Sportello Reclami. Quindi un diritto di passo negato. Beh, ne ripariamo tra un attimo, subito dopo gli spot. Oggi le telecamere del nostro Sportello Reclami di Alessandro Palandri e di Diletta sono andate a San Giovanni Valdarno dove avete visto c'è una situazione abbastanza strana, un diritto di passo addirittura ultracentenario che invece viene di fatto oggi messo in discussione. Sicuramente ci sarà chi potrà dirimere questa questione, questo garbuglio abbastanza complesso. Noi postiamo, come di consueto, il nostro servizio nel nostro sito internet a disposizione di chi voglia e di chi sappia in qualche modo intervenire. Vi ringraziamo dell'attenzione ricordandovi sempre i nostri recapiti per le vostre segnalazioni, per i vostri disagi, per i vostri reclami. Alla prossima! Ci sono cose che nessuno ti dirà Ci sono cose che nessuno ti darà In Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà Ci sono cose che nessuno ti darà Sei nato e morto qua Nato nel paese delle mezze verità Nato nel paese delle mezze verità